E' destinato ai bambini della scuola elementare e se non ci sono adesioni ce n'è qualcuna, se non ci sono adesioni non saranno cinque giorni come avevamo previsto ma solo uno, perché non è facile mettere in piedi una cosa di questo tipo. E' la responsabilità che ci stiamo prendendo non solo noi ma anche chi mette l'asinella. Ma il motivo per cui vi dico questo è un altro. Mi sono pentita di questa cosa perché Giovanni il centro storico non esiste più, tutto distrutto. Io ho visto persino perché l'intento è quello di offrire ai bambini che mai hanno visto il centro storico qualcosa che non vedranno più che appartiene alla memoria e al ricordo dei propri antenati. Non esiste quindi le cose piccole, i ferri dove si fermavano i cavalli, le strisce negli angoli dove passavano i carri, la pietra di fiume di piazza Castello che viene smantellata. E' una pietra eterna che prenderà il posto del finto basolato. Ma su questa storia siccome in piedi è anche una feroce campagna nei miei confronti per aver fermato i lavori in piazza Pitagora preferisco eventualmente l'approfondiamo in un altro momento. Perché mi sono pentita? Perché ai bambini offriamo davvero una visione di un centro storico per cui sono stati spesi milioni di euro al disastro. C'è persino una finta telecamera a 360 gradi, spesi con i soldi di Urban 2, a 360 gradi, che non funziona a cavallo di un, come si chiamano, gli stemmi nobiliari, che ci possono anche non piacere i nobili. Gli stemmi nobiliari. Però a cavallo dello stemma, arredi urbani distrutti, non c'è nessuno, ci sono solo gruppi di interesse di altro tipo che non sto qui a dire ma insomma alla fine meno male che ci sono uomini e non dico chi. Quindi eventualmente voi tenetelo presente che era previsto per una settimana ma probabilmente sarà solo, l'asinella si fermerà con noi solo un giorno. Ma non perché per l'insufficienza nostra, perché è una cosa vera, seria, non si può fare solo per farsi vedere. E quindi raccoglieremo poi i tappi per la raccolta differenziata ma il punto centrale è il centro storico. E' meglio vedere anche questo, per dare ai ragazzi una cosa. Abbiamo detto che dobbiamo accettare, non amare il territorio, quello che è. Anche queste cose non lo aiutano. No, questo territorio, dobbiamo saperlo, è molto odiato. E dobbiamo cercare di innestare un... Vi chiedo scusa per la rinnovazione. No, ci mancherebbe. Chiediamo... Grazie.